Oggi ho deciso che voglio fare dell'aceto preparare, dell'aceto di mele, aceto di melograno. Ora andiamo a Ghellalla per comprare delle piccole giare di coccio che è l'ideale per mettere dentro poi il succo delle mele e dei melograni in modo che possano fermentare e poi diventare aceto. Ecco siamo arrivati a Ghellalla e ora compriamo delle piccole giare per l'aceto e poi troviamo anche una da 20 litri, è difficile ma in caso compriamo due da 10 litri per poi mettere l'olio. Ecco queste sono le leggere per l'aceto, questo non c'entra e queste sono per l'olio, intanto una decina di litri. Allora sono stato al mercato e ho comprato più o meno 16 kg di mele e 20 kg di melograno e in tutto speso attorno un po' più di 10 euro per tutto. Poi come vi ho detto sono stato da Fettiglia a Ghellalla e ho preso queste due piccole giare che sono smaltate per mettere l'aceto di mele e l'aceto di melograno. Già che c'ero ho comprato anche questa pentola di coccio che la devo trattare nel centro dell'immergo per una giornata dentro l'acqua. Questi due posso scelte e questo porta sorviettina. Allora cominciamo a fare l'aceto di mele. Queste mele sono tutte come vedete non sono perfette perché sono tutte presente biologiche, insomma apprese e portate dai coltadini che non hanno usato anticriptogrammi di medicina eccetera. Queste mele noi le dividiamo in quattro. Ci sono due metodi per poterlo fare. Io ho l'estrattore per cui farò direttamente il succo di mele che lo metterò dentro una giara per 40 giorni e due mesi e si preparerà. Se non avete un estrattore dividete le mele così in quattro, le mettete dentro una giara e coprite queste mele con dell'acqua fino a quando insomma le mele devono essere tutte immesse nell'acqua, avendo cura di lasciare almeno una decina di centimetri tra l'acqua e il bordo della giara. Io però uso l'estrattore per cui non aggiungerò acqua e avrò un aceto un po' più forte. Se lo volessi più leggero potrei comunque aggiungere l'acqua. A questo punto io non ho bisogno di dividere in quattro quelle grandi soprattutto per non fare lavorare molto l'estrattore. che è importante che lasciate anche la buccia. Se con l'estrattore poi in parte va via tutto. Se mettete invece le mele spezzate dentro la giara togliete il torsolo ma comunque lasciate la buccia. al momento in cui avrete fatto il succo poi lo mettete dentro questa giara. Quando la giara diciamo il livello del succo arriverà a più o meno 7-8 centimetri o almeno 5 centimetri, poi dovete coprire la giara con un panno in modo che l'aria possa entrare. Vedete qua c'è questo laccio, li ho legati accanto in modo che rimane fermo. Ecco come vedete adesso qua nella giara è stato coperto con questo panno legato e così se ne starà fra e per una quarantina di giorni. Ora cominciamo a fare l'ascento di melograno. Allora per facilità anche qua io userò l'estrattore. Prendete un melograno che conviene aprirlo in quattro e poi lo mettete in una bacinella, io ho messo pure uno scolapasta con dell'acqua che verrà più facile poi riuscire a sgranarlo. Ecco ora prendete il melograno che è sciato un poco nell'acqua. Come vedete è molto più semplice togliere i grani e li mettete in una bacinella. E poi i grani anche quelli andranno nell'estrattore. Se non avete l'estrattore fate un po' come con le mele. Mettete i grani di melograno dentro la giara e poi copriteli con dell'acqua. L'importante è che si arrivi a riempire la giara fino a 5, 6, 7 cm dal collo dell'imboccatura. Se non avete un giara di colcio di terracolta potete anche usare del vetro. Però sicuramente non potete utilizzare metalli. Cioè nemmeno un cucchiaio per mescolare. Cioè il metallo riuscirebbe a rovinare tutto il lavoro che avete fatto. Se non usate il metallo praticamente il successo dell'operazione è praticamente assicurato. E ora prendiamo, questi sono i melograni, una parte dei melograni. Poi dobbiamo toccare anche gli altri che abbiamo messo in questa ciotola. e ora li mettiamo nel fondatore. Ecco, quando avrete finito di estrarre il succo. lo mettete dentro questa giara e lo stesso procedimento che si è fatto con la mele. Ecco, alla fine lo coprite come esattamente non dovete cambiare nulla. Ecco, questo è l'aceto di melograni fatto in casa da Salem con i melograni assolutamente biologici perché vengono sul giardino. E questo è l'aceto di mele. L'aceto di mele ha una proprietà che serve per aiutare a bruciare i grassi. Poi disinfetta tutto. Insomma, sono molti che addirittura al mattino qua in Turchia si bevono al mattino un cucchiaio di aceto di mele. Quelli fatti in casa però. E uno prima di andare a dormire. Del resto poi, al di là di tutto, tutte le cose naturali fanno bene. E comunque, fra una quarantina di giorni, cinquantina di giorni, avremo l'aceto sia di mele che di melograno. A quel punto, se qualcuno lo vuole trasparente e raffinato, poi bisogna imbottigliarlo e chiuderlo. Stavolta con un tap, in modo che in mancanza d'ossigeno si blocca il processo di fermentazione. Se qualcuno vuole accelerare questo processo, può anche mettere un cucchiaio di zucchero. Io il tempo ce l'ho, per cui insomma non lo faccio. Ma questo potrebbe servire per accelerare di una decina di giorni questo processo. Se si prende prima, dopo una ventina di giorni, dovrebbe essere una bevanda alcolica. Ad esempio in Germania c'è l'Affelwein, che è un vino di mele buonissimo. Insomma, fate un po' voi. E poi comunque ci vedremo fra una quarantina di giorni, vi farò vedere il prodotto finito.